Tutto l'amore del popolo bianco-rosso ai piedi dei giocatori della nuova VL. Una marea di 300 tifosi ha salutato ieri pomeriggio la squadra di Coach Buscaglia alle prese con la partenza programmata Destinazione Carpegna per iniziare il consueto ritiro precampionato. Un incontro caloroso avvenuto all'esterno dell'hotel Flaminio dopo le rituali visite mediche svolte tra ieri e domenica e che ha visto il coinvolgimento e il trasporto emotivo da parte di tutti i giocatori tra confermati e nuovi acquisti. Foto, autografi e cori di incitamento per accogliere la nuova stagione della Carpegna Prosciutto che partirà ufficialmente il primo ottobre sul parquet di Brescia. Si parte per una nuova avventura e stagione, adesso andiamo in un bel posto dove possiamo lavorare, dobbiamo quotidianamente creare il nostro gruppo creare la nostra squadra, stare bene insieme, coesione, affiatamento, unione di utenti condivisione, tutto quello che fa di una squadra qualcosa in più di parte vale e poi andiamo in campo. I primi giorni sono anche giorni di apertura, quindi un lavoro che è atletico, fisico, mentale. Inizio io sono uno che va molto passo dopo passo, quindi l'appuntamento è il 3 settembre perché è bello dopo 10-12 giorni avere una verifica del campo, è bello farla subito con una squadra di livello, al di là delle presenze o assenze è bello coinvolgere tutti quanti ed è bello riuscire a vedere le prime verifiche di quello che stai facendo, è un percorso che deve arrivare alla prima palla 2. Visibilmente emozionato per la stagione che verrà anche Matteo Tambone, neo capitano biancorosso, reso ufficiale due giorni fa. Essere capitano già di una squadra è importante, ma della Welli è ancora di più, è una società storica veramente emozionante, ma al stesso tempo sono carico e pronto per incominciare. Sicuramente la voglia di portarci a casa qualcosa è tanta, quindi cominciare col piede giusto, ma con l'idea di poter vincere qualcosa sarebbe molto figo. Abbiamo Brescia e Venezia subito, squadre importanti, dobbiamo dimostrare di essere già all'altezza nelle prime partite, quindi è giusto incominciare molto concentrati. Classica settimana di duro lavoro sia a Matteutino che a Pomeridiano, dove ci sarà una parte di potenzialità fisica, atletica, pesistica, per poi pomeriggio andare a lavorare sui fondamentali e sulla tecnica e ovviamente sulla costruzione del nuovo gioco, con il nuovo allenatore, tutte le cose che piano piano bisogna costruire. Per noi una cosa fondamentale è tutto questo entusiasmo, che si tramuti in abbonamenti, in biglietti, perché chiaramente abbiamo bisogno del pubblico, anche per le nostre finanze.